TAYLOR! TAYLOR! Voglio uscire da qui! Vogliamo entrambi la stessa cosa, trovare TAYLOR! Dimmi dov'è, Sara! Devi restare con me! Dopo aver scoperto quel progetto avete cercato Salim. Salim, scambiati i dati di Corbus della Black Station con gli immortali, i contatti del CDP ci hanno portati in Egitto. Una volta trovato Salim abbiamo sfruttato l'assalto dell'NRC. Perché era così importante? Il dottore era l'unico sapere della foresta. Era un'ossessione per tutti noi. Per TAYLOR solo lì eravamo al sicuro. Poi dove siete andati, Sara? Dove vi siete nascosti? Siamo andati ai vecchi estrattori e lì abbiamo pianificato la cattura di Salim. Gli estrattori? Vuoi dire quelle piattaforme idriche in mezzo al deserto? Scommetto che Taylor e Maretti sono già là. Deve essere così. Kane riuscirà a trovare le coordinate esatte. Sara, cos'è successo quando hai preso Salim? Cos'è accaduto? A che ve c'è? Che ti ha detto? Dobbiamo saperlo.